Non si arresta il movimento franoso che da domenica scorsa sta facendo scendere a valle un pezzo di collina a Ponzano di Civitella del Tronto. 24, le famiglie e circa 80 le persone coinvolte. Il terreno si muove velocemente, scende di un metro al giorno e probabilmente alcune abitazioni saranno destinate a crollare. Fortunatamente il movimento franoso è iniziato lentamente e ha permesso a tutti i residenti di fuggire. Nell'arco di 24 ore si sono create crepe alte 2 metri, le case si sono inclinate anche di 20-30 centimetri. Al momento è sotto osservazione anche l'arresto della collina. Sono arrivati nei giorni scorsi i tecnici del Dipartimento, della Protezione Civile Nazionale, del CNR e della Regione Abruzzo che hanno effettuato i sopralluoghi nella frazione civitellese. Da ieri sono in corso anche i monitoraggi effettuati tramite i droni dei Vigili del Fuoco di Teramo. Dei primi rilevamenti la frana sembra essere profonda di 70 metri sottoterra. C'è naturalmente forte preoccupazione, dicevamo, perché la frana continua a muoversi. Sono state inserite anche delle spie di monitoraggio, i classici vetrini o fessurimetri che permettono di stabilire come proceda lo smottamento.